Il crack del pastificio Amato, avviso di garanzia per il sindaco di Salerno Vincenzo De Luca e per il figlio Piero. I magistrati contestano ai due il reato di corruzione per aver favorito gli imprenditori salernitani in cambio di finanziamenti per comizi elettorali e viaggi di lavoro. Il governo taglia l'Imu e i napoletani pagano. Stangata prima casa per 34 milioni di euro nel capologo partenopeo, il sindaco De Magistris. Non siamo il bancomat del governo di Roma. Metro aperte di notte per i senza tetto dopo la morte del clochard la scorsa notte ai piedi del comune. Le associazioni denunciano facciamo il possibile ma non è mai abbastanza. A Roma per tornare a vincere il Napoli si prepara alla sfida di lunedì contro la Lazio. Azzurri a Castelvolturno per l'allenamento. Benitez ripensa al modulo. Buongiorno dalla redazione di Otto News e ben trovati all'appuntamento di metà giornata con la nostra informazione. Ad aprire oggi il nostro telegiornale lo abbiamo ascoltato assieme dai titoli un'altra indagine a carico del sindaco di Salerno e vice ministro alle infrastrutture Vincenzo De Luca. L'inchiesta è quella che riguarda il crack del passificio amato. I pubblici ministeri hanno infatti inviato un avviso di garanzia sia al primo cittadino che a suo figlio Piero. L'ipotesi di reato formulata dai pubblici ministeri sarebbe di corruzione per aver favorito gli imprenditori salernetani in cambio di fondi per comizi elettorali e viaggi di lavoro. Giuseppe Porzio. Per il re di Salerno i tempi non sono di quelli migliori. A pochi giorni dal recapito in cima alla cassetta postale di una testa mozzata di maiale e nel pieno di una bufera politica sulle sue non dimissioni, ecco abbattersi su Vincenzo De Luca. Nuovamente la mannaia della giustizia. E non è solo. Il sindaco di Salerno e vice ministro, ancora senza deleghe del governo Letta, è in buona compagnia di suo figlio Pietro, il cui nome compare come capolista alle primarie PD per Matteo Renzi nella circoscrizione Salerno-Costiera-Amalfitana. Proprio quel Matteo Renzi contro il quale si scagliò De Luca qualche mese fa, quando lanciò la volata per il candidato premier del centrosinistra dell'allora segretario PD Pierluigi Bersani. Ma questa è un'altra storia. L'ultima tegola è dettagliata oggi dal Fatto Quotidiano e narra di un'indagine per corruzione nell'ambito dell'inchiesta sul crack del pastificio amato. De Luca e figlio sono stati raggiunti d'avviso di garanzia per proroga delle indagini da parte della Procura di Salerno, che ha chiesto inoltre una rogatoria internazionale con il Lussemburgo, dove lavora Pietro De Luca, per verificare le accuse e i possibili risvolti finanziari della vicenda. Val la pena fare un passo indietro. Tutto nasce da alcune rivelazioni di Peppino Amato Junior, che ha raccontato ai magistrati, mostrando anche documenti e bonifici, di aver pagato le spese relative al comizio di De Luca a Piazza Plebiscito nel 2010, in occasione delle regionali. A spingerlo a fare questo passo sarebbe stato, secondo Amato, sulla base delle ricostruzioni dei magistrati, Mario Del Mese, nipote dell'ex deputato Deor Paolo e molto vicino a Piero De Luca. Ma il meglio è da venire. Mario Del Mese mi raccontava, rivela il fatto quotidiano, citando carte giudiziarie di viaggi in Lussemburgo per raggiungere Piero De Luca, al quale portava soldi da versare sul conto in Lussemburgo, provenienti dalla IFIL. Ed è qui che i guai si confiano per papà e figlio. Ad avvalorare il tutto ci sarebbero dei biglietti aerei per il Lussemburgo pagati dalla IFIL alla moglie di Piero De Luca e alla madre, ex moglie del sindaco di Salerno, Rosa Zampetti. Il tutto mentre monta la bufera politica. Già perché mentre tutti si aspettavano le dimissioni del viceministro alle infrastrutture, lui risponde a muso duro all'antitrust che aveva posto il 30 novembre come termine per risolvere il doppio incarico. Intervistato da Radio Alfa, De Luca è tornato a inviare contro il ministro alle infrastrutture, Maurizio Lupi, che non gli dà le deleghe da viceministro. Non ho intenzione di essere il suo scendiletto, dice, Lupi vuole fare il pinguino con me, ma io lo arroto. Nel frattempo è stata consegnata in procura l'informativa della Digos sul ritrovamento della testa di maiale mozzata. Sono stati acquisiti e analizzati i filmati dell'impianto di videosorveglianza della zona e sui risultati investigativi la procura ha aperto un fascicolo. No comment del sindaco proprio di Salerno, Vincenzo De Luca. La notizia riportata dal Fatto Quotidiano, appunto, De Luca, indagato assieme al figlio per il crack del passificio amato. Le ipotesi, appunto, sarebbero di corruzione e abuso di ufficio. Il Vincenzo De Luca è stato avvicinato dai cronisti a margine della due giorni sul turismo promossa da Confindustria a Salerno e non ha voluto, appunto, commentare in nessun modo proprio la notizia riportata dal Fatto Quotidiano. Restiamo ancora a Salerno, restiamo ancora nel Partito Democratico. è stato ascoltato per circa un'ora e mezza dal Pubblico Ministero della DDA di Salerno, Vincenzo Montemurro, il responsabile nazionale organizzativo del PD Davide Zoggia, nell'ambito, appunto, dell'inchiesta sulla campagna di tesseramento 2012 in provincia di Salerno. Nel corso del colloquio il deputato ha consegnato gli elenchi degli iscritti in provincia di Salerno per l'anno 2012. In tutto sono circa 18.000 nominativi che saranno confrontati con l'elenco già acquisito dalla DDA, insieme ad un centinaio di tessere in bianco del 2012, prive di numeri di serie. I documenti erano stati rinvenuti presso un costruttore di nocera inferiore. Sempre da Roma, nei prossimi giorni, arriveranno sul tavolo del Pubblico Ministero anche gli elenchi degli iscritti del 2013, dai quali si potrà capire quanti hanno rinnovato le tessere già acquisite dell'anno precedente. Solo dopo questi accertamenti il magistrato deciderà se ascoltare oppure no anche il responsabile organizzativo provinciale Nello Mastursi. Nella stessa indagine sono già stati sentiti il coordinatore nazionale Patrizio Mecacci e il coordinatore provinciale il deputato Simone Valiante. Parliamo ancora di politica. L'Udc a Napoli perde pezzi. 20 rappresentanti tra consigli municipali e coordinamento cittadino che hanno annunciato le dimissioni irrevocabili e l'adesione all'associazione Campania Domani. Fondatore e presidente dell'associazione è il consigliere del Comune David Lebro, mentre il referente politico nazionale è l'ex ministro Giuseppe Fiorioni, che assume così l'incarico di presidente onorario. L'associazione, ha spiegato il consigliere, intende essere un punto di riferimento per cittadini, enti, istituzioni e parti sociali e rispecchia la nostra vera necessità, ovvero quella di una partecipazione attiva incentrata sulla promozione dello sviluppo del nostro territorio. L'Imu, quella tolta dal governo che ricade sulle amministrazioni comunali. Anche a Napoli i cittadini saranno costretti a pagare una quota in più sulla prima casa. L'ira di De Magistris, il governo deve assolutamente mantenere gli impegni presi. 34 milioni di euro, tanto dovranno pagare i cittadini napoletani a causa dell'ultimissima manovra del governo sull'Imu per la prima casa. L'esenzione stabilita dall'esecutivo per il 2013 non sarà più totale, perché una parte degli introiti prima previsti e poi congelati sarà caricata last minute sui comuni. In pratica lo Stato non coprirà più il 50% dell'aumento della liquota fissata dalle amministrazioni. Nel caso di Napoli il Comune a inizio gennaio sarà costretto a chiedere la metà di quell'uno per mille in più, dal 5 al 6 deliberato all'interno del bilancio 2013 per le abitazioni principali. Il che vuol dire che il governo garantirà al massimo sui 104 milioni di previsione iniziale circa 70 milioni di euro, mentre il resto dovrà essere pagato dalle famiglie con aggravi compresi tra i 35 e i 57 euro. Cifre non altissime, ma beffarde. Rispetto a quanto Roma aveva fatto inizialmente intendere, ipotizzando un anno esentasse per chi possiede un solo immobile. I Comuni ovviamente non ci stanno e Napoli è in prima fila nello scontro che si è aperto tra Anci, in testa il Presidente Piero Fassino, e il governo. La decisione del Consiglio dei Ministri, che nei fatti introduce una mini IMU per il 2013 in tutte le città che avevano aumentato le aliquote, ha scatenato la reazione immediata della Giunta dei Magistris, che poco digerisce questo esborso improvviso a carico delle famiglie proprietarie di prima casa. Per il primo cittadino, infatti, deve essere esclusa l'ipotesi che il governo non mantenga gli impiegni presi. I sindaci, ha detto, sono stanchi di essere il bancomat del governo nazionale. Per l'assessore al bilancio del Comune di Napoli, Salvatore Palma, quella di Roma è una scorrettezza politica che mina il Comune partenopeo e mina i principi contabili. In pratica, la decisione del governo di abolire la seconda rata dell'IMU causerà un mancato introito nelle casse delle amministrazioni comunali, con il conseguente rischio per la fornitura dei beni essenziali ai cittadini. Palazzo San Giacomo deve recuperare almeno 30 milioni di IMU sulla prima casa. Ma quanto ammonterà quell'IMU? Alcune proiezioni prova a farle proprio l'assessore Palma. Mettiamo, dice, che l'IMU sulla prima casa nel 2012 è stata di 300 euro. Nei calcoli di bilanci fatti dal Comune nel 2013 sarebbe dovuta diventare, come media tra prime e seconde case, di 320. Ebbene, la metà della differenza di 20 euro, cioè di 10 euro, rappresentano l'IMU sulla prima casa che si dovrà ancora versare. A fare proiezioni anche la UIDA. Su base nazionale l'aumento è di 42 euro. A Napoli, invece, la media sarà di 38 euro a famiglia, che secondo quanto annunciato in questi mesi dal governo non si sarebbero dovuti proprio pagare. È proprio disastro. I napoletani rischiano di pagare, in conseguenza delle decisioni assunte dal governo sull'IMU, anche la quota prima casa. A sostenere questa tesi è il presidente di Feder Consumatori Campania, Rosario Stornaiolo, che continua, dice, il Comune di Napoli, essendo in predistesto, non può di fatto abbassare le aliquote. E tutto questo si riverserà, ovviamente, sui cittadini napoletani. Adesso cambiamo argomento, ci occupiamo della terra dei fuochi. Arrivano le dichiarazioni del Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano. In Campania e in provincia di Caserta sono accadute cose terribili. Questa è l'accusa del Capo dello Stato. Il Presidente ha risposto alle domande sulla situazione dei rifiuti, rivoltegli da un gruppo di studenti, nel corso di un incontro al Quirinale. Ha sottolineato che è necessaria una forte azione dello Stato ed è necessario che tutti acquisiscano una consapevolezza che forse non è così diffusa. Il governo prepara, infatti, un decreto ad hoc. Il Capo dello Stato è tornato, dunque, a parlare della terra dei fuochi. Ci sono cose terribili come quelle accadute in Campania e a Caserta. Ci sono tanti fatti nuovi e preoccupanti. La priorità è il rispetto dell'ambiente, evitare disastri che derivano da cambiamenti climatici, ma soprattutto dall'incoria e dagli errori umani. E a proposito del decreto del governo, lo ha annunciato anche ieri, proprio da Napoli, il Ministro dell'Agricoltura, Nunzia de Girolamo. Ma confermarlo ancora di più, qualora ce ne fosse bisogno, anche il Presidente della Regione Campania, Stefano Caldoro, che dice, una notizia arrivata proprio pochi minuti fa in redazione, sul decreto del governo per la terra dei fuochi, c'è qualcosa di più di una promessa. Sono stato preavvertito che è stato predisposto e dovrebbe andare in Consiglio dei Ministri già la prossima settimana. Appunto l'ha detto il Governatore Caldoro, a margine dell'inaugurazione ad Avellino della nuova PET-TAC installata all'Unità Operativa di Medicina Nucleare dell'azienda ospedaliera San Giuseppe Moscati. E appunto, anticipavamo anche le dichiarazioni del Ministro per l'Agricoltura, Nunzia de Girolamo, ieri a Napoli per presentare il nuovo organo politico. Ha parlato sia del leader Berlusconi, ha detto, nonostante la decadenza, Berlusconi resta comunque il nostro leader, e ha parlato anche del provvedimento per la terra dei fuochi. Sentiamo. Silvio Berlusconi resta il leader del centrodestra. Così il Ministro delle Politiche Agricole e Forestali Nunzia de Girolamo alla presentazione a Napoli del gruppo consigliare in Regione Campania del nuovo centrodestra. La responsabilità di questa bruttissima pagina di storia è tutta da attribuire al Partito Democratico, ha affermato il Ministro. Se si guardano i sondaggi, ora siamo più forti di prima. Abbiamo superato il centrosinistra a seguito della nascita di questo nuovo movimento. E a chi le chiede cosa succederà ora in Consiglio regionale, ha affermato. Noi restiamo nella giunta Candoro legati a Stefano esattamente come nel passato. Lui è in un altro partito, ma fa parte della nostra stessa coalizione. Sicuramente dovrà tener conto che c'è un nuovo gruppo con il quale dovrà interloquire indipendentemente dal partito di cui fa parte Caldoro. Il Ministro poi si è detta anche molto soddisfatta dell'abolizione della seconda rata IMU che non verrà pagata per i fabbricati rurali e per i terreni agricoli degli imprenditori professionali. E sull'impiego dell'esercito per contrastare il fenomeno degli sversamenti dei rifiuti speciali e dei rughi tossici nella terra dei fuochi si dice favorevole. La settimana prossima, forse già martedì, arriverà in Consiglio dei Ministri un decreto Orlando de Girolamo, quindi ambiente e agricoltura, proprio per dare una soluzione e indicare una strada per risolvere il problema della terra dei fuochi che parte dal concetto principale la perimetrazione della zona. Noi dobbiamo capire dove inizia il problema e dove finisce. Una volta individuato l'inizio e la fine del problema noi potremmo fare bonifiche, riconversioni, aree no food. Noi attraverso i nostri istituti di ricerca faremo questo e quindi supereremo anche un po' i limiti burocratici che sono dati dal titolo quinto della Costituzione che in questi momenti perde tempo fra regioni, Stato, Comuni. Andiamo oltre e quindi con questo decreto daremo una risposta immediata alla gente del nostro territorio che è spaventata innanzitutto nel consumare i prodotti che però solo in una piccola zona dobbiamo vedere se sono contaminati, non contaminati, faremo tutte le analisi, faremo la riconversione. Il resto della campagna i prodotti sono buoni, ne stiamo attempiti a non farci male. Si dimetta da parlamentare e io mi dimetterò. È la risposta di Francesco Nitto Palma al ministro appunto Nunzia De Girolamo che ieri aveva chiesto le sue dimissioni da presidente della Commissione Giustizia. Prendo atto, afferma Nitto Palma in una nota che il ministro De Girolamo, distraendosi forse un po' da altri impegni, chiede le mie dimissioni. Chissà poi perché solo le mie da presidente della Commissione Giustizia del Senato. Non me ne spiego il motivo, ha detto Nitto Palma, ma immagino che la ragione sia nel fatto che Forza Italia sia passata all'opposizione. Se così dovesse essere, aggiunge ancora Nitto Palma, mi permetto di ricordare al ministro De Girolamo, senza con questo permettermi di farle delle lezioni di regolamento, che i presidenti di Commissioni, così come i presidenti di Camera e Senato, sono organi di garanzia, che non soffrono dell'alternarsi della maggioranza. Polemica, dunque, tra i due ex esponenti dello stesso partito, adesso in partiti diversi. E si prefigura già una prossima risposta della De Girolamo. Continuiamo a parlare di politica. Il presidente della Regione Campania, Stefano Caldoro, ha incontrato nella sala giunta di Palazzo Santa Lucia i sindaci della Cilento. All'ordine del giorno, il punto sull'accelerazione della spesa sulle iniziative da mettere in campo per accedere alle risorse sul decreto 35 relativo ai ritardi dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni e sulla metanizzazione fra Cilento e Vallo di Diano. Considerando circa 82 comuni, la spesa da impegnare entro il 2015 oscillerà tra i 150 e i 200 milioni di euro da spendere, essenzialmente per opere pubbliche ed edilizia scolastica. Sull'accelerazione della spesa, evidenziato il governatore, si gioca una grande sfida. È un'azione tutta rivolta agli enti locali, soprattutto ai comuni più piccoli abbiamo risorse fuori patto che possiamo impegnare. Durante il suo intervento, Caldoro ha poi sottolineato che sarà recuperato gran parte del lavoro del Parco Progetti e che bisogna concentrarsi adesso su quelli dunque da finanziare. Insieme con i sindaci del Cilento è necessario individuare le priorità e le aree strategiche di intervento. Infine, il Presidente ha ricordato le azioni messe in campo per sostenere le aree interne e le azioni di questi giorni sul ritardo dei pagamenti della pubblica amministrazione. Proprio in queste ore, infatti, la ragioneria di Palazzo Santa Lucia sta liquidando molte amministrazioni comunali e bisogna insistere sul dialogo istituzionale, ha concluso Caldoro, che è l'unica strada da percorrere nei momenti più difficili. E circa 500 lavoratori dello stabilimento di Marcianise in provincia di Caserta della Jabil, multinazionale americana del settore della manifattura elettronica, si stanno dirigendo da questa mattina in corteo verso lo snodo autostradare di Caserta Sud. Il motivo? Protestare contro l'annuncio di 440 esuberi su 750 dipendenti totali annunciati ieri dall'azienda ai sindacati. I lavoratori, che erano in cassa integrazione già da due anni, ha riferito Massimiliano Guglielmi, segretario generale della FIOM di Caserta, chiedono un incontro in prefettura per riuscire a portare la loro vertenza nella sede del Ministro dell'Economia il più presto possibile. La mozzarella DOP, mozzarella a rischio di falsa certificazione, è quanto scoperto dagli agenti della Guardia Forestale che hanno sequestrato, pensate, ben 60.000 certificazioni false pronte per essere apposte sui prodotti campani. Oltre 60.000 involucri con falsi marchi DOP, denominazione di origine protetta per mozzarella e grossi quantitativi di mozzarella etichettati in maniera non conforme alla normativa vigente, sono stati eseguiti a Giuliano e Melito in provincia di Napoli dal Comando regionale della Campania del Corpo Forestale dello Stato su segnalazione da parte della sezione ispettiva del Consorzio di tutela della mozzarella di bufala campana DOP. A tutela del consumatore si è anche proceduto al prelevamento di campioni di mozzarella per verificare la qualità del prodotto. I sequestri sono stati fatti nell'ambito di un'operazione denominata Brand Protection avviata per la prevenzione, la vigilanza e il contrasto ai crimini agroalimentari e agroambientali e per la tutela delle tipicità campane che godono della DOP e dell'indicazione geografica protetta. L'operazione fa seguito ai controlli effettuati a Milano e che hanno portato al blocco delle attività di un negozio per la rivendita di falsa mozzarella DOP. Il consorzio in merito alla natura dei prodotti sequestrati nel napoletano ovvero sacchetti stampati con il marchio DOP evidenzia che questo prodotto continua a rivelarsi un'impareggiabile garanzia di sicurezza soprattutto in un momento come quello attuale in cui il consumatore sente ancora più forte la necessità di sentirsi rassicurato e tutelato sulla qualità dei prodotti agroalimentari. E' con grande soddisfazione che abbiamo accolto l'invito del colpo forestale dello Stato a collaborare per la difesa della nostra DOP. Siamo i primi a chiedere trasparenza e ad avere a cuore la garanzia del consumatore lo ha affermato Domenico Raimondo presidente del consorzio di tutela della mozzarella di Bufala Campana DOP in merito proprio al sequestro di falsi involucri di mozzarella DOP. Metro napoletane aperte anche di notte l'obiettivo è cercare di dare riparo ai tantissimi senza tetto della nostra città l'altra notte un clociare morto proprio ai piedi del comune di Napoli intanto intervengono anche le associazioni soprattutto quelle di volontariato tra queste la comunità di Sant'Egidio e la Caritas di Ocesiana che dicono noi cerchiamo di fare il possibile ma sono tantissimi i senza tetto della città di Napoli e non sempre è possibile fare qualcosa per tutti loro. Da questa notte le stazioni della metropolitana di Napoli resteranno aperte per permettere ai clociare e ai senza tetto di riposare più riparati quasi al caldo ma loro i senza fissa dimora se sorridono lo fanno con amarezza una saggia decisione certo che arriva tardi però per uno di loro Samuel il professore è morto per il freddo nella strada dello shopping napoletano via Toledo di lui è rimasto un giubbotto sul terreno e neanche un fiore è il rischio che corrono tantissimi invisibili ogni notte quando la temperatura scende nei pressi dello zero è per questo che un esercito di volontari si muove cercando in ogni angolo per soccorrere con pasti caldi coperte e qualche parola di conforto chi per scelta o per i casi della vita è finito a dormire sotto un porticato sono loro i volontari della Caritas e di tutte le altre associazioni che si muovono sul territorio gli eroi che di notte salvano tante vite umane con piccoli gesti come spiegano Elisabetta Ferone della comunità di Sant'Egidio e Don Enzo Cozzolino responsabile della Caritas diocesana di Napoli quindi un appello che vogliamo fare è anche appunto perché siano messe a disposizione più posti letto perché siano aperte le metropolitane o posti appunto coperti come possono essere sottopassaggi tendoni riscaldati e altre iniziative che si fanno un po' in tutta Italia diciamo in tutte le grandi città quindi diciamo ci sono degli esempi basta seguirli anche i centri diurni poter sostare al caldo di giorno perché uno dei problemi è che bagnandosi restando bagnati tutto il giorno non potendosi cambiare chiaramente si è soggetti a un raffreddamento più rapido Ecco la Caritas con tutte le parrocchie i decanati ma soprattutto i volontari della Caritas in ogni momento è presente a fianco alle associazioni di ispirazione cattolica e non sono sul campo e soprattutto la notte per i senza fissa di mura ultimamente c'è stata una grande raccolta di coperte ma soprattutto pasti caldi e l'accoglienza e la relazione verso l'altro così i nostri fratelli senza fissa di mura possono trovare un degno ricovero almeno non stare per strada e sui marciapiedi Sarà l'autopsia a stabilire se Anna Ruggello la ragazza di 20 anni finita nel fiume Sarno mentre si trovava a bordo della sua automobile con la madre sia morta proprio per l'incidente o per annegamento l'incidente era avvenuto giovedì scorso dopo che la Fiat Panda a bordo della quale viaggiavano le due donne aveva tamponato un'altra automobile a bordo della quale viaggiava un militare della Guardia di Finanza il corpo di Anna è stato recuperato ancora non è stato invece trovato il corpo della mamma Nunzia Cascone Sarà solo l'autopsia a stabilire la verità sulla morte di Anna Ruggello la ragazza di 20 anni finita nel fiume Sarno nel tratto del comune di Pompei mentre era a bordo della Fiat Panda guidata da sua madre Nunzia Cascone di cui non è ancora stato rinvenuto il cadavere l'auto è caduta dopo l'impatto con un'altra vettura una Fiat Grande Punto alla cui guida c'era un militare della Guardia di Finanza l'esame autoptico stabilirà se Anna è morta a seguito del sinistro stradale o per annegamento il medico legale Antonio Lombardi che ha già eseguito l'autopsia solo al termine di tutti i testi conseguenziali all'esame autoptico potrà chiarire il giallo per i funerali si aspetta che il pubblico ministero Francesca Sorvillo disponga il dissequestro della Salma che potrebbe però avvenire a breve la famiglia spiega il legale De Cascone Andrea Maria Prea avrebbe voluto fare un unico funerale per madre e figlia ma purtroppo non è stato possibile le acque del fiume Sarno infatti non hanno ancora restituito il corpo di Nunzia nonostante le ricerche siano ancora in corso la pioggia e il freddo non rendono facili le operazioni operate dai vigili del fuoco coordinati dall'architetto Ciro Scognamiglio dalla Guardia Costiera di Napoli diretta dall'ammiraglio Antonio Basile e di Castellammare di Stabia agli ordini del capitano di fregata Savino Ricco e dalla protezione civile di Pompei coordinata dal dottor Ferdinando Cataldo le ricerche sono state affidate alla tecnologia di ESO il robot elettronico ad ultrasuoni che coattura le immagini nelle zone d'ombra e le trasmette sul monitor dove grazie ad un programma di decriptamento vengono decifrate forme e oggetti il maltempo di questi giorni ha impedito al reparto aereo dei vigili del fuoco di sorvolare nell'elicottero le acque del fiume alla ricerca di ogni indizio che possa portare al ritrovamento del cadavere della donna intanto da Don Ivan Licinio incaricato diocesiano del servizio per la pastorale giovanile del santuario di Pompei parte la proposta rivolta ai giovani di darsi appuntamento sul luogo dell'incidente incontriamoci e diamoci la mano fino a formare una lunga catena quanto le sponde del fiume ha scritto Don Ivan ai suoi amici di Facebook un gesto semplice che manifesterebbe il desiderio di stringersi come città al dolore della famiglia Rugello ed esprimergli la nostra solidarietà il sociale e il bene comune temi importanti importantissimi per la città di Napoli sui quali interviene anche la chiesa responsabilità sociale e tutela del bene comune questo è il tema dell'incontro che si svolgerà il prossimo 3 dicembre presso la basilica di San Giovanni Maggiore di Napoli nell'ambito dei dialoghi con la città voluti e promossi fortemente dal cardinale di Napoli Crescenzio Sepe e che vedrà confrontarsi sul tema del bene comune i professionisti del territorio campano i professionisti sono una parte essenziale della società ha spiegato il presidente del comitato unitario professionisti Maurizio De Tilla la nostra responsabilità civile ci impegna nella consapevolezza del contributo determinante che possiamo dare allo sviluppo sociale ed economico del territorio nel corso della conferenza stampa la quale hanno partecipato i presidenti degli ordini professionali napoletani sono stati presentati otto punti programmatici condivisi dai professionisti e dalla curia per costruire un percorso utile alla rinascita della città sentiamo Maurizio De Tilla presidente del comitato unitario professionisti e monsignor Adolfo Russo vicario episcopale che ha presenziato l'incontro l'incontro è voluto dal cardinale Sepe nell'ambito degli incontri per un dialogo con la città e per la città e quindi i professionisti hanno accolto questo invito anche per un confronto diretto condividendo anche che le professioni si debbano impegnare sul piano sociale più diretto per le sorti della città è un appuntamento ovviamente molto importante perché il cardinale di Napoli il cardinale Sepe vuole chiamare a raccolta tutte le energie migliori della città di fronte a delle difficoltà che la città avverte nel riprendere il proprio decoro la propria dignità il proprio percorso verso una rinascita il cardinale anche a seguito del giubileo che si è celebrato due anni fa ha voluto chiamare a raccolta tutte le energie le risorse migliori e attive della città una notizia ad ultimora battuta poco fa dalle agenzie è confermato lo sciopero nazionale di 4 ore nel trasporto pubblico locale per il prossimo 16 di dicembre lo annunciano unitamente i sindacati Filt CGL FIT CISL Will Trasporti UGL Autoferro Tramvieri e Faisa ritenendo l'incontro di ieri al Ministero del Lavoro sul settore assolutamente inadeguato per lo sblocco della trattativa contrattuale la decisione è stata appunto presa dopo l'incontro al Ministero sulle problematiche del settore sull'avvertenza contrattuale secondo le organizzazioni sindacali è necessario che il negoziato contrattuale riprenda subito nell'ambito del nuovo contratto della mobilità e che soprattutto si chiuda in tempi rapidi le start-up come occasione di sviluppo economico e soprattutto di rilancio a favore dei più giovani soprattutto di Napoli e del Meridione le start-up sono la vera sfida del futuro l'innovazione fattore chiave per lo sviluppo economico entrerà infatti nella quotidianità degli italiani e sarà il paradigma delle politiche economiche miranti alla crescita giovani e meno giovani avranno l'opportunità di trasformare il proprio talento in iniziativa imprenditoriale queste le parole di Liliana Speranza consigliere dell'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Napoli presentando il convegno start-up un'opportunità di sviluppo per le imprese oggi è importantissima una sfida per il futuro perché attraverso lo start-up è possibile dare dinamismo a questo mercato e noi commercialisti dobbiamo promuovere la cultura dell'intreprendere in particolare la cultura della passione per l'impresa di fare innovazione in Italia ci sono circa 1200 start-up che sono nate però purtroppo il sud è sempre in coda diciamo il 50% al nord del 36% al centro e solo il 16% al sud dove la campagna purtroppo è sempre il numero minore ma noi dobbiamo essere noi commercialisti che dobbiamo spingere per un rinnovamento e noi ci siamo questo è il motivo di questo convegno il convegno è un'occasione di confronto tra professionisti imprenditori istituzioni ed università sul tema il dottore commercialista che affianca l'imprenditore ha un ruolo fondamentale sia nella fase di costituzione che in quelle successive come spiega Vincenzo Moretta presidente dell'ordine dei commercialisti di Napoli oggi il consiglio dell'ordine di Napoli con questa iniziativa è di grande esempio perché è necessario dare vitalità a questo tessuto economico scarno e impervio pieno di insidie oggi stiamo vedendo assistendo la moria di tante piccole imprese piccole e medie imprese e la sezione fallimentare del tribunale veramente è un elenco continuo quotidiano e credo che invece dando un segnale di fiducia con iniziare nuove attività dando uno spazio ai giovani spingendo queste nuove iniziative sicuramente è un abboccato di ossigeno che noi diamo a questa economia ci fermiamo per una breve pausa pubblicitaria ben ritrovati in studio con la nostra pagina sportiva ci occupiamo ovviamente del calcio Napoli a Roma per tornare a vincere gli azzurri di Benitez si preparano per la sfida di lunedì contro la Lazio Lazio-Napoli è la giusta occasione per rilanciarsi la banda di Benitez è reduce da tre sconfitte consecutive tra campionato e Champions League deve assolutamente tornare a vincere per non perdere contatto con il duo di testa la Lazio è reduce dalla buona vittoria di Varsavia che rilancia le quotazioni di Hernanes in campionato con gli Aquilotti a secco di vittorie da quattro turni Petkovic sulla graticola la classifica dice ottavo posto e meno cinque dall'Europa ma il Napoli non sta di certo vivendo un periodo florido e Rafa Benitez non vuole perdere altro terreno l'allenatore azzurro dopo aver dato un giorno di riposo a chi ha giocato titolare a Dortmund per scaricare tossine e sconfitta ora vuole tutti concentrati con una doppia seduta di allenamento in programma a Castelvolturno gli altri uomini della Rosa hanno svolto test atletici individuali sul campo circuito di corse e palestra mentre Mesto e Zuniga proseguono nella loro tabella di lavoro personalizzato sul frontemercato il Napoli non vuole perdere tempo e dopo la notizia ufficiosa di un accordo con il giocatore rosso-blu Antonelli ora si stringe per Maxime Gonalons nelle prossime ore il direttore sportivo Riccardo Bigonne e Frederic Guerra procuratore del capitano del Lione si confronteranno ancora per capire insieme le reali intenzioni del club francese gli azzurri hanno fretta di concludere ma la richiesta del Lione ferma 14 milioni di euro contro i 12 che vorrebbe spendere Aurelio De Laurentiis ma a gennaio è ancora lontano bisogna capire per quali traguardi il Napoli correrà e adeguarsi di conseguenza ora la Lazio è dietro l'angolo e non bisogna far scappare Juve e Roma l'arbitro designato per il match di lunedì sera sarà Bergonzi coadiuvato da Galloni e Marzaloni quarto uomo Manganelli è tutto la nostra informazione ritorna puntuale alle 19.30 grazie per averci seguito buon pomeriggio grazie per avermi